Il progetto nasce nel 2015 a Bologna e lo scopo è quello di parcheggiare in sicurezza le biciclette nei pressi della stazione centrale di Bologna. Ci rivolgiamo soprattutto a Pendolari e offriamo anche un servizio di officina e noleggio di biciclette e anche di cargo bike e di mezzi per disabili. Abbiamo uno spazio dove possiamo organizzare anche eventi e iniziative rivolte alla città e abbiamo parcheggiato fino ad oggi 60.000 biciclette, effettuato 17.000 riparazioni e circa 12.000 noleggi con inoltre 520 e più di 30.000 presenze.